Giorgio Chiellini ha detto ieri che la Spagna è la bestia nera dell'Italia del 2008. Come si frena la bestia nera? Bisognerebbe ammazzarla, però. Si frena, proviamo a frenarla. Diciamo che stiamo studiando la Spagna, però poi in fin dei conti in campo sono i duelli che contano se vince o no, se l'attenzione è un particolare che magari farà la differenza e sarà anche il nostro atteggiamento. Sicuramente dovremo essere attenti alla loro fase offensiva, ma sapere anche che dobbiamo provare a colpirli, quindi non dovremo fare una partita remissiva, quello sarebbe l'errore più grande. Per Candreva ci dispiace molto, è normale. Sappiamo benissimo quello che ci poteva dare e ha fatto anche benissimo le prime due partite, quindi ci dispiace, però siamo i 23 e ci saranno i sostituti giusti per far sì di non farlo rimpiangere. La cosa più importante è che a 35 anni, nonostante si può giudicare a volte la prestazione dall'età, e quindi se giochi bene hai esperienza, se giochi male sei quasi finito, io invece a 35 anni mi ritengo uno che è alla pari degli altri, anche del ventenne. Quindi se faccio il test lo faccio uguale al ventenne, mi alleno sempre come il ventenne e quindi non vedo perché non posso stare ad alti livelli se reggo ancora fisicamente. In più ho anche un po' di esperienza e la testa, quindi diciamo che questo mi ha dato quel qualcosa in più di giocare adesso a questi livelli, che magari prima non ero pronto. Grazie a tutti.